Boom di voucher nel 2016. L'utilizzo del lavoro accessorio è in continua crescita e la cosa preoccupa il sindacato. Oltre 12 milioni i buoni staccati fino ad agosto in Veneto. Nella sola provincia di Treviso le stime parlano di 3 milioni e mezzo di voucher nell'anno corrente per oltre 36 mila lavoratori, contro i 2 milioni 700 mila buoni per 35 mila lavoratori nel 2015. Per abolire questo tipo di rapporto di lavoro, la CGL ha raccolto le firme per un referendum abrogativo che potrebbe tenersi già in primavera. Sono state raccolte più di un milione di firme, sono depositate in corse di Cassazione e stiamo attendendo che ci dicano se il referendum viene ammesso o no. E dopodiché avremo tutta la campagna referendaria. Nel 2015 un voucher su tre è stato acquistato da operatori turistici, poi il settore dei servizi alla persona e il commercio. In due anni il numero dei voucher è cresciuto del 134%, mentre i lavoratori interessati sono aumentati del 120%. Il buono lavoro non è riuscito nel suo intento quello di combattere il lavoro nero e il precariato, anzi. Purtroppo spesso vediamo che accanto al lavoratore in voucher c'è anche il lavoro nero, perché il voucher serve come copertura di rapporti di lavoro non formalizzati. Questo è il problema sostanziale. Allora, nati come risoluzione e soluzione del lavoro nero, in realtà sono diventati l'alibi per il lavoro nero. Servono a regolamentare piccoli lavori, il lavoro domestico, le piccole pulizie nelle famiglie, qualche cosa in agricoltura. Estendendolo a tutti i settori produttivi sta facendo dumping contratuale, sta facendo concorrenza al lavoro contratuale, perché costa meno e quindi gli impeditori lo usano purtroppo. Precarietà e incertezza. Per venire incontro ai dubbi e ai problemi dei lavoratori, la CGL Televigiana ha lanciato un progetto per conoscere le esigenze dei precari e migliorare la risposta in termini assistenziali. Cercare di entrare in contatto con un mondo che è un mondo, diciamo, molto invisibile ad oggi. Se ne parla sui numeri, ma poco ancora si conosce delle reali esigenze di questi lavoratori. La nostra intenzione è rappresentare anche questi lavoratori per cercare in qualche modo di accompagnarli nell'esercizio dei propri diritti e, perché no, anche nella ricerca di un lavoro più stabile.